Sai che cosa mi piace di più della mia vita? È sapere che mi sveglio tutte le mattine sapendo che farò qualcosa che mi piace. Riuscire ad ispirare gli altri a fare le cose che gli piacciono è la cosa più bella del mondo. Ciao, sono Ruggero Pazzaglia, il fondatore di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente. E in realtà, la cosa che mi piace di più è capire in quanti modi diversi posso ottenere questo risultato. È davvero sorprendente che tu ci creda o no che con questo sistema io sono riuscito a crearmi una rendita passiva. Incontro gente famosa e spesso mi chiamano anche per avere una mia prestazione come performer o come insegnante. Questa cosa mi lusinga e mi diverte molto. Vedi, sono molto fortunato a poter fare qualcosa che realmente mi piace. E grazie a questo posso dire di essere molto soddisfatto di quello che ho fatto fino adesso. Ho ancora tanto da fare, lo so, ma lo faccio con fiducia e serenità perché io ci credo fermamente in ciò che sto facendo. E ne conosco il motivo. Credo in questo mezzo che oggi sto usando, che purtroppo non si era mai presentato prima. Credo che si possa creare empatia con quelli come te che sono mossi dalle stesse esigenze che ho io. Suonare uno strumento musicale è un modo di esprimersi e di appartenere a una categoria di persone speciali. La musica ha in sé la capacità di raggruppare le persone simili. Basta andare a un concerto per vederlo. Oppure basta capire i gusti musicali di una persona che si ha di fronte per capire se c'è similitudine fra di noi. È un po' come essere fedeli a una religione o appartenere a un partito politico. Certo può diventare un'ossessione, ma a differenza di una religione o di un partito politico non ci si combatte furiosamente perché non si hanno gli stessi gusti musicali. Nel mio viaggio di studente di uno strumento musicale ho capito che se dentro hai una forte passione che ti spinge a studiare, approfondire, analizzare la musica sotto tutti i suoi vari aspetti come quello culturale, sociale, estetico, etico, evolutivo, storico e non solo, mi ha fatto crescere non solo come musicista ma anche come persona, come individuo. Quindi è stato più un viaggio di crescita personale ma se vogliamo crescere anche noi per arrivare a certi livelli dobbiamo per forza ispirarci a loro e quindi sono loro i modelli da studiare e quindi da modellare cioè analizzare la loro vita, il loro percorso in modo da modellarne i fattori di successo. È questa curiosità che mi ha spinto ad approfondire questi argomenti durante il mio percorso. Non bastano gli esercizi sullo strumento Per migliorare, crescere ed evolversi ci vuole un perché A prescindere dall'obiettivo che puoi avere come musicista l'importante è andare a fondo e analizzare il tuo perché È il viaggio la parte più bella che devi goderti È vedere i tuoi miglioramenti e celebrarli È capire che stai facendo un percorso da intronauta cioè colui che viaggia all'interno di se stesso. Non crederai a quali e quanti miglioramenti raggiungerai durante questo viaggio sia nella tua vita da musicista che nella tua vita personale Scoprirai un senso di appartenenza Scoprirai una maggiore consapevolezza del tuo corpo e della tua sfera emozionale Scoprirai quanta creatività c'è dentro di te e potrai addirittura usarla anche nella vita di tutti i giorni Alla fine non potrai più farne a meno Scoprirai emozioni che nemmeno conoscevi perché questo è il potere della musica E imparare a suonare uno strumento è solo un mezzo per avere accesso a questo meraviglioso mondo che però non è solo fatto di magia, bellezza e altre cose meravigliose ma è anche fatto di malinconia, tristezza, dolore Ma c'è sempre comunque gioia e amore, comprensione e anche allegria E credimi, tutto questo non ha prezzo Ecco, questo è il motivo che mi fa alzare tutte le mattine E sapere che finalmente posso e in un certo senso devo condividere le esperienze che ho fatto durante questo mio viaggio E anche un po' perché sento che devo sdebitarmi verso i regali che la vita mi ha fatto Ora ho i mezzi per raggiungere tutte le persone che sono simili a me ma che per qualche motivo non hanno avuto la fortuna di accedere alle esperienze che ho fatto io Se sei un batterista e senti di avere questa passione che ti spinge fortemente alla ricerca di queste strade resta con me, dammi la possibilità di creare una connessione diretta con te Sotto questo video, nell'area info, troverai un link da cliccare per poter entrare in connessione diretta con me Potremo discutere direttamente e magari vederci anche in videochiamata per vedere se c'è un modo per esserti d'aiuto Se invece non sei un batterista ma sei comunque un musicista e ti interessa il mio percorso scrivimi lo stesso perché sto preparando qualcosa anche per te L'importante è creare una connessione fra musicisti dello stesso tipo, cosiddetti pari a prescindere dallo strumento che suoni In questo modo potremo scambiarci i nostri percorsi e potremo crescere insieme, condividendo Vedi, siamo già entrati nell'era della crescita di gruppo Quella dell'individualismo è già finita da un pezzo Solo in gruppo si può ottenere quel miglioramento di cui l'essere umano ha realmente bisogno oggi E anche la musica è migliore se creata in gruppo Se poi è anche suonata in gruppo è l'eccellenza Vedi, la musica, come ti ho spiegato già prima, è un mezzo per crescere come persona e come musicista Quindi prima di lasciarti ti ricordo un'ultima volta di cliccare nelle info sotto al video Per cominciare a creare una connessione fra di noi e per entrare anche tu a far parte di questo già numeroso gruppo di musicisti Che io chiamo pari, cioè persone simili In questo modo creeremo un team, una squadra di persone che vogliono condividere una crescita Adesso ti lascio con un abbraccio e ti aggiornerò presto con le novità che ci riguardano Ciao da Ruggero e ci vediamo al prossimo video Mi raccomando, clicca e fammi sapere cosa ne pensi Ciao! Ciao!